La novità più importante che riguarda la ricostruzione è senz'altro la notizia che il superbonus 110% resta attivo senza modifiche sino al 2025, ma solo nelle aree terremotate dei crateri 2009-2016. Le aree colpite da zisma saranno fuori quindi dal decreto del superbonus che blocca la cessione del credito e lo sconto in fattura. Al di là di quello che si possa pensare sulla misura del superbonus del 110, la realtà è che ormai questo tipo di misura era parte integrante del percorso di ricostruzione perché era incastonata sia per quanto riguarda la fase dell'accollo sia per quanto riguarda il sisma bonus rafforzato, ovvero le parti comuni che dovevano essere a carico dei proprietari di un consorzio chiaramente venivano in quel modo supplite in termini di risorse da parte della modalità sisma bonus. Questo continuerà fino al 2025 e anche chi ha optato per il sisma bonus rispetto ai fondi per la ricostruzione porrà continuare a utilizzare questo tipo di strumento. Stessa situazione per quanto riguarda il terzo settore, le Ollus, stessa situazione per le Ater, per le edilizie residenziali pubbliche, passi importanti per rendere protagoniste sempre di più l'Abruzzo. Nella conferenza stampa a Palazzo dell'emiciclo i senatori di Fratelli d'Italia, Guido Liris, ETA e il Sigismondi hanno parlato del decreto ricostruzione che ha 26 articoli in apertura e in videocollegamento. Il senatore Guido Castelli, commissario sisma 2016, un decreto che per lui riveste grande importanza perché ottiene traguardi che consentono di guardare con maggiore serenità la ricostruzione e la rigenerazione del cratere. Gli aspetti più importanti sono la stabilizzazione di decine e decine di professionisti giovani della pubblica amministrazione ma anche l'intervento sulle scuole. Arriva il decreto sisma che cerca di semplificare, di velocizzare le procedure della ricostruzione, va a dare dei segnali importanti per quanto riguarda il personale. Infatti vengono riaperti i termini per la stabilizzazione al 31 dicembre del 2023 e questo proprio per non perdere le professionalità che in questi anni si sono formate. Così come ci sono delle procedure del PNRR che vengono estese di velocizzazione evidentemente al cratere 2009, 2016 e 2017 c'è un importante risultato ottenuto per quanto riguarda il mondo della scuola.